Scoperto un nuovo tipo energia oscura, e forse è quella che muove l'universo. L'espansione dell'universo rimane uno dei più grandi misteri del cosmo, e forse abbiamo fatto un piccolo passo avanti per risolverlo. Cos'è l'energia oscura? Nella fisica e nell'astrofisica è pieno di fenomeni che facciamo fatica a spiegare uno di essi e sicuramente la forma di energia che porta all'espansione, dell'universo. Per questo si pensa che esista l'energia oscura, qualcosa di non rilevabile, diffusa nello spazio che grazie alla sua forza antigravitazionale muove tutto. Ora i cosmologi avrebbero trovato tracce di un secondo tipo di energia oscura, che potrebbe essere esistita 300.000 anni dopo il Big Bang. Ma le ricerche stanno procedendo con estrema cautela su questo tema perché i risultati preliminari non danno nessuna certezza al momento. Ci sono una serie di ragioni per stare attenti a prendere questo come una scoperta di una nuova fisica, afferma Silvia Galli, cosmologa presso l'Istituto di Astrofisica di Parigi. Se questo è vero, se l'universo primordiale fosse davvero caratterizzato dall'energia oscura iniziale, allora dovremmo vedere un segnale forte, afferma Collin il cosmologo alla Columbia University. L'energia oscura iniziale non sarebbe stata abbastanza forte da causare un'espansione accelerata, come sta attualmente facendo l'energia oscura ordinaria. Ma avrebbe causato il raffreddamento del plasma immerso dal Big Bang, più velocemente di quanto non avrebbe fatto altrimenti. Ora si stanno mappando le radiazioni primordiali dell'universo per trovare prove, ancora più convincente di questa straordinaria suggestione. Fonte, https2.com.it barra l'ifestile barra tecnologia barra amp 37661003 barra energia oscura universo barra di queste strade. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.